Eccoci qui Befana Polizia SAP 2015 presentata dalla bellissima e bravissima Emanuela Tittocchia e Fabrizio Pacifici A me prima non hai messo aggettivi prima del mio nome e cognome Era compreso era, non c'è bisogno di dirlo perché è sottointeso Però io sono contentissimo perché anche quest'anno presenterò insieme a questa bellezza della televisione italiana Che carini che siete, grazie, è un grande onore per me Infatti lo dico sempre, quando Fabrizio mi ha chiamato e mi ha detto Ma senti quest'anno alla Befana Polizia SAP vieni, certo che vengo, sono felice, grazie, mi fa molto piacere Ecco noi siamo tutti contenti, le persone stanno venendo, c'è un grandissimo afflusso E abbiamo moltissimi ospiti anche quest'anno che hanno aderito a questa importante iniziativa Tanti cantanti, ne diciamo alcuni, possiamo vero? No, poi magari ce ne scordiamo alcuni, quegli altri perché non mi ricordate Ah, vabbè, uno su tutti lo posso dire, mi prendo la responsabilità Siamo figli delle stelle Figli del... Indovina? Alan Sorrenti Ma tantissimi, Massimo Di Cataldo, Edoardo Imanello, Nick dei Cugini di Campagna Veramente quest'anno è un grande caso Quindi anima mia anche se sentiremo oggi Ovviamente Bellissimo Poi in esclusiva è la prima esibizione da solista, Nick Questa è la prima qui da noi a Ostia, solo per noi Ecco, perciò questo è uno scoop, Nick come solista per la prima volta qui alla Befana Grandissima preparazione da parte di tutto, lo staff, grandissima organizzazione Così sembra, speriamo che vada tutto bene, mancano solo 6 settori alla fine Sì, l'anno scorso abbiamo iniziato alle 3 e finito alle 8 Ma in realtà dopo 5 ore, mi ricordo, la mia sensazione l'anno scorso era Mi dispiaciuto quasi scendere dal palco perché ormai stavo bene lì, mi ero abituata Che facciamo quest'anno? Possiamo rimanere sul palco, anche dopo Sì, sì, possiamo fare quello che ci pare Va bene, va bene, bello Perfetto, allora vogliamo dare un buon augurio di buona Befana a tutti quanti Buon anno, buon anno a tutti Cioè, cerchiamo veramente di essere felici Io l'ho detto anche l'anno scorso Anche se ci sono i problemi, anche se ci sono le malinconie, i dolori La vita è bella e anche nelle difficoltà, lo so che è difficile, ma è così Sereno 2015, la serenità è la cosa più bella Grazie di questo vostro augurio Perciò, dalla Befana, dal Pala Filcam di Ostia Per il momento è tutto, buona Befana a tutti e buon anno a tutti Ciao Ciao Ciao